Beh, buonasera. Allora, chiedo scusa per le condizioni in cui sto facendo questo video, ma sono molto molto stanco e sono anche... Oh mio Dio, mi fa un pochino male la testa. Però volevo parlarvi di questa cosa che a mio avviso è importante, perché quello che sta accadendo a Blue Moody non è assolutamente giusto ed è anche molto grave. Vi spiego brevemente che cosa è successo. Moody aveva fatto un video dove ironizzava sulla gente che urla al politicamente corretto per qualsiasi cosa e Matt Karus che cosa ha fatto? Se l'è presa sul personale e ha iniziato a dire in giro che, ripubblicando anche il suo video, che era per forza fatto contro di lui, quando lui non c'entrava un cacchio in sto video, che il video era fatto palesemente contro di lui per prenderlo in giro e la gente che cosa è successo? Cioè, seguendo quello che dice sto ignorante qua che cosa ha fatto, ha preso ed è andata a insultare anche con cose molto gravi. Cioè, la gente ha iniziato a scrivere a Moody in privato, iniziando a fare minacce di morte, minacce varie, bullismo, insulti. Quindi, sono anche arrivati a dirle che non è davvero una ragazza disabile perché non si vede. La disabilità non è sempre visibile, infatti esistono anche le disabilità invisibili. Ma non è questo il punto. Il punto è che questa situazione è veramente grave. Moody si è ritrovata a dover cancellare delle chat perché la sua salute mentale, giustamente anche, non poteva reggere tutti questi insulti, non poteva reggere tutte queste minacce. Cioè, vorrei vedere voi, tipo, se vi trovassero in una situazione così brutta. E Moody, oltre ad aver bloccato Matt Carus, perché a mio avviso ha fatto anche bene a bloccarlo, praticamente poi ha iniziato a chiedere magari nelle stories di Instagram se per favore chi la seguiva potesse inviare video di Pokémon oppure video di animali carini. E la gente ha iniziato a dirle che è patetica, che è vittimista, una roba del genere, cosa che Moody assolutamente non è. Tutti questi insulti. Ma questo comportamento non è da persone normali, non è da persone civili e dovreste solo vergognarvi perché, cioè, questo è bullismo. Matt Carus si deve vergognare che poi lui urla, cioè, già a me stava antipatico perché urla al politicamente corrotto per qualsiasi stronzata. Raga, ve lo dico qua chiaro e tondo, il politicamente corretto non esiste. Più avanti ci farò un post a riguardo, ma ve lo giuro, il politicamente corretto non esiste. È un'invenzione della stampa conservatrice che serve per mettere a tacere le minoranze discriminate e non fare alcun tipo di inclusività nei cartoni, nei film, nei videogiochi, eccetera, eccetera. Quindi ve lo dico chiaro e tondo. Chiusa questa parentesi, vergognatevi e mamma mia. Cioè, io mi chiedo come fa una persona del genere ad avere gente che la stima. Perché, mamma mia, 44k follower, sono tipo 44k follower che ascoltano le boiate che dice. Però, vabbè, la cosa più vergognosa sono proprio quei follower che sono andati da moody a farle del male, a farle questi commenti orribili. Cioè, non è ammissibile una cosa del genere. Non è ammissibile. Io perché ho voluto parlare di questo? Ho voluto parlare di questo perché, secondo me, moody è un'attivista, una ragazza fantastica, anche se purtroppo non la conosco dal vivo, ma mi piacerebbe. E soprattutto perché queste cose vanno denunciate. Vanno denunciate. Detto questo, spero si sia capito quello che volevo dire. La massima solidarietà va a moody e la vergogna va a chi ha fatto questa cosa.